Passo la parola a Francesca Saffi che invece ci racconta questa esperienza del catalogo regionale, che ci interessa quali descrittori avete utilizzato, perché questo ci aiuta anche nel lavoro che dicevo un attimo fa, il gruppo interistituzionale con cui ISFOL noi collaboriamo sta appunto ragionando su quelli che possono essere gli standard di qualità. Grazie, buongiorno a tutti, posso solo avere il telecomando, grazie. Io vi porto anche i saluti del nostro assessore al lavoro, la professoressa Panariti, grazie, e del nostro direttore, il dottor Ruggero Cortellino. Ecco, presento oggi questa esperienza del catalogo regionale dell'offerta orientativa nel Friuli Venezia Giulia. È stata appunto, ed è tuttora, un'occasione per valorizzare ciò che esisteva sul nostro territorio e disseminarlo il più possibile anche in quei contesti in cui la progettazione non era nata inizialmente. Quindi un intervento di sistema che ha cercato di rendere disponibili i contenuti nei vari contesti del territorio. Allora, intanto che cos'è? Beh, un catalogo significa che è proprio un insieme di percorsi, di orientamento, che hanno natura informativa, diciamo, anche però di tipo laboratoriale, dove quindi i ragazzi si sperimentano, e hanno valenza di tipo educativo. Lì svolgiamo all'interno delle scuole, per cui, diciamo, tra i beneficiari anche del piano della garanzia giovani, noi ci rivolgiamo agli utenti più giovani, ecco, quindi dai 16 anni in su, sostanzialmente. All'interno delle scuole secondarie e degli enti di formazione professionale sono organizzate queste attività di orientamento. C'è poi una parte del catalogo dedicata agli insegnanti e agli operatori, come dei corsi di aggiornamento. Come regione manteniamo la titolarità del progetto ed è poi però un soggetto attuatore che per noi realizza gli interventi all'interno dei contesti. Questo soggetto è composto da un'associazione di enti di formazione professionale accreditati sul territorio. Ecco, noi abbiamo potuto utilizzare le risorse Fondo Sociale Europeo per poter sostenere i costi di queste iniziative. Significa proprio anche il costo del materiale, insomma, tutto è coperto da questo finanziamento. Il progetto attualmente in corso è triennale, quindi l'abbiamo iniziato nel 2012, lo terminiamo alla fine del prossimo anno. L'ho già anticipato, comunque nel nostro territorio avevamo rilevato che non tutti i contesti avevano la stessa, chiamiamola, maturità progettuale. Cioè ci sono delle eccellenze su scala chiaramente più piccola rispetto a quella nazionale, però anche nel nostro territorio alcuni contesti più avanzati, altri meno. Ciò che volevamo fare era proprio diffondere in maniera capillare i percorsi che abbiamo visto essere efficaci nel tempo. Questo permette poi di aumentare, o almeno ci auspichiamo, aumentare la qualità degli interventi di orientamento messi a disposizione dei ragazzi, nelle loro scuole e nei contesti formativi, e gradualmente arrivare a una omogeneità dell'offerta orientativa. La dico brevemente. Comunque nel nostro contesto del Friuli Venezia Giulia esiste, per la legge regionale del 1980, quindi siano ormai 30 anni, che esiste un sistema proprio di centri regionali di orientamento. Cioè abbiamo del personale, io sono una di loro, dipendente della regione, che opera sul territorio per erogare assistenza tecnica alle scuole, consulenze specialistiche di orientamento, azioni di progettazione. Ecco, quindi un sistema che forse non è uguale in tutte le altre regioni d'Italia, anzi sicuramente no. È un punto un po' di forza che abbiamo sicuramente. Quindi nel territorio, grazie anche a questo sostegno che abbiamo dato negli anni, esistevano delle progettualità interessanti, insomma. Poi abbiamo utilizzato la diffusione del software Sorprendo, che è una modalità innovativa, possiamo dire, di fare orientamento alle professioni, come primo luogo dove sperimentare una progettazione che poi diventasse utile per il sistema. Cioè alcune situazioni sperimentali hanno realizzato dei percorsi ideato e realizzato che usano Sorprendo e che sono stati poi diffusi negli altri territori. Quindi era un po' l'inizio della nostra esperienza di messa a sistema. Oltre a questo, però, quindi non abbiamo solo il software Sorprendo, ci sono molti altri percorsi nati anche dalle caratteristiche dei diversi contesti. Abbiamo anche percorsi che puntano magari di più su componenti di tipo pratico, di tipo emozionale. Poi abbiamo dal 2002 una legge regionale che sostiene, dando proprio dei contributi alle scuole, le azioni contro la dispersione scolastica. Quindi un ulteriore pezzettino del percorso è fatto anche da quello. E come dicevo prima abbiamo colto poi l'occasione del Fondo Sociale Europeo per raccogliere un po' tutto questo e provare a standardizzarlo, sistematizzarlo. Che cosa abbiamo quindi fatto? Proprio una raccolta attraverso anche delle schede progettuali semplici, comunque delle esperienze significative sul territorio. Abbiamo coinvolto i docenti, i progettisti della formazione professionale, le università, le strutture che si occupano di cooperazione, insomma i vari interlocutori del territorio. Abbiamo raccolto queste esperienze, abbiamo fatto una standardizzazione, però perché necessariamente vanno uniformati i contenuti, anche nel senso della durata, poi vi dirò meglio. Abbiamo quindi condiviso, una volta realizzato questo catalogo, le modalità con cui si poteva poi effettivamente realizzare l'esperienza sul territorio. Significa che ogni anno convochiamo tutte le scuole del territorio e tutti gli enti di formazione professionale, li invitiamo a sedersi davanti a tavoli territoriali e lì diciamo bene, la disponibilità è di far partire tot ore di formazione, quante ne farai tu, quante ne vuoi tu, quindi distribuiamo sul territorio l'opportunità di avvalersi di questa esperienza e questo poi avviene nelle singole scuole, come dicevo prima, per il tramite degli enti di formazione professionale, nostri soggetti attuatori. La realizzazione dei percorsi è affiancata da una raccolta di dati per il sistema di monitoraggio, perché ci interessa, come è stato anche già detto prima, recuperare anche un po' l'esito. Che cosa c'è nel catalogo dell'offerta orientativa? Allora abbiamo cinque tipologie diverse di percorsi, io con la freccia rossa vi ho indicato quelli che sono più attinenti proprio ai beneficiari che abbiamo in mente oggi. Comunque ci sono anche dei percorsi per i ragazzi più piccoli che sono volti a lottare contro la dispersione scolastica, hanno rispettivamente 30 ore oppure 10 ore come tipologie, i percorsi rivolti agli insegnanti e agli operatori di orientamento, quindi con delle forme di aggiornamento, e i nostri due capisaldi di oggi, percorsi educativi per la transizione in uscita, si lavora, questo non l'ho detto, si lavora sempre con i gruppi classe o comunque con dei gruppi di ragazzi, non è un'azione individuale, però sono percorsi o di 15 ore o di 10 ore, dove o si imposta, si aiuta i ragazzi a impostare un progetto formativo professionale, oppure lì si fa sperimentare, magari in pratica un esempio è il colloquio di selezione, allora il ragazzo fa delle simulazioni, compila il curriculum, eccetera. Non va avanti. Ecco, infatti qui vi ho solo riportato i nomi di alcuni di questi percorsi. Conoscersi per scegliere invita proprio i ragazzi a fare una rilettura della loro esperienza formativa, per mettere in luce i loro interessi e le loro capacità, e poi eventualmente per pianificare il loro progetto formativo e professionale futuro. Poi abbiamo invece percorsi che accompagnano i ragazzi a vedere le aziende all'interno, quindi attraverso visite guidate. Percorsi che prendono come tema o l'educazione alla cooperazione, o lo spirito imprenditoriale. Quindi altre tematiche sempre legate al mondo del lavoro. E poi appunto, l'ho già citato, colloquio di selezione, una riflessione sulle competenze trasversali. Insomma, questi sono i contenuti che offriamo. Dove vedevamo possibili collegamenti con l'oggetto della giornata di oggi? Perché i destinatari, l'ho già detto prima, del catalogo sono tra quelli che possono essere i beneficiari della garanzia giovani. Poi abbiamo appunto, dentro i nostri percorsi, contenuti di carattere sia informativo, ma anche, dicevo, educativo e progettuale. Quindi non è solo un dare informazioni. Si tratta di far lavorare i ragazzi anche su le loro dimensioni personali per vedere come potranno muoversi appunto nel mercato del lavoro in maniera più rispondente a quello che sono. Ecco, poi ci sono in realtà anche proprio le informazioni pure, come funziona il mondo del lavoro, quali regole, contratti, diritti, doveri, eccetera. Però anche, dicevo, la sperimentazione concreta dei ragazzi. Se devi scrivere il curriculum, facciamo prima a farlo proprio in classe, che no, a dirti come si farebbe. Cioè, nelle dieci ore di lavoro, i ragazzi si mettono proprio in gioco, non è solo una lezione frontale. Ecco, siamo arrivati con il mese di maggio-giugno di quest'anno a metà del percorso triennale. Per ora, quindi, noi abbiamo realizzato, vabbè, sono numeri piccoli, ma la nostra regione non è tanto grande, come sapete. Quindi 271 percorsi di orientamento realizzati nelle scuole, negli enti di formazione professionale, sono quasi 3200 ore di formazione complessive e i destinatari sono 4600. Questa cifra è più o meno un decimo di tutta la popolazione scolastica del secondo ciclo della nostra regione. Quindi, considerando che qui sono solo i due anni terminali, ne abbiamo raggiunte una certa percentuale, sicuramente. Come dicevo, abbiamo monitorato il percorso e a oggi abbiamo circa l'85% dei dati che ci sono rientrati. Purtroppo non sempre è facile raccogliere anche i dati di monitoraggio. Il catalogo è stato di anno in anno ampliato, arricchito, per cui questa edizione 2014, che adesso cominceremo a utilizzare, contiene 64 diversi percorsi. Tra questi, 22 sono quelli di cui un po' vi ho accennato prima, cioè rivolti agli studenti in uscita dal percorso scolastico. Abbiamo anche noi, naturalmente, una rilettura delle criticità, nel senso che mettere a catalogo delle esperienze peculiari non sempre è facile. Nel senso che qualche volta bisogna un po' rinunciare a forse le specificità proprio del contesto. Bisogna standardizzare. Questo è un equilibrio che va cercato tra rendere replicabile sul territorio lo stesso percorso e valorizzare il più possibile le sue specificità. Un esempio può essere territori diversi nella nostra regione hanno tessuti, per esempio, industriali molto diversi. Quindi anche le visite territoriali nelle aziende non possono essere uguali. Trieste è una città ricca di servizi, molto terziario, di aziende produttive abbiamo pochissimo. Il contrario, magari, su Udine e Pordenone. Quindi abbiamo per forza bisogno di capire come standardizzare. Poi, per quanto uno faccia lo sforzo di standardizzare, comunque l'attuatore, cioè la persona che proprio condurrà il laboratorio in classe, ci mette del suo, come dire. Quindi sempre abbiamo riscontrato anche delle differenze nell'attuazione. Per questo, però, abbiamo cercato il più possibile di affiancare il percorso con i ragazzi a attività di formazione agli operatori, che sono magari gli insegnanti della stessa classe, ma anche operatori esterni. Abbiamo cercato di far andare di pari passo le due cose. C'è il solito punto dolente, diciamo, cioè, questo progetto oggi è possibile grazie al Fondo Sociale Europeo. Ci domandiamo se fosse possibile, appunto, trovare una sostenibilità diversa, magari per il futuro. Ecco, e guardando invece poi in generale al futuro, in questo momento la nostra regione, proprio per così volere del nostro direttore Cortellino, ha in mente di iniziare un'attività che non è proprio la garanzia giovani, ma si chiama progetto giovani, cioè quasi cerchiamo di fare una sperimentazione con un lavoro di rete tra centri di orientamento, centri per l'impiego, quindi stiamo già cercando di attivarci su questo. Poi sappiamo che il catalogo di cui vi ho parlato entrerà nella nuova programmazione, però non sappiamo ancora con quali risorse. Sappiamo anche che sarà importante promuovere sempre più l'informazione relativa ai percorsi di alta formazione, tipo gli ITS. Il collega prima ha detto a Verona ce ne sono due, non riusciamo a raggiungere abbastanza ragazzi per farli entrare. Anche noi in regione abbiamo due ITS, anche lì è necessario fare molta pubblicità, perché c'è ancora un po' di diffidenza, ancora i ragazzi dicono ma io vado all'università, piuttosto, non capiscono. Ecco, quindi inseriremo un focus speciale su questo. E poi sempre di più coinvolgeremo i rappresentanti del mondo del lavoro, perché è la chiave un po' per far funzionare questa esperienza. Ecco, io vi ringrazio. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie a tutti.